Legittima difesa. Sarà quasi certamente questa la tesi difensiva dell'avvocato Andrea Massalin, il difensore di Ebrimà Savanè, il 21enne originario del Gambia, accusato di tentato omicidio dopo aver ridotto in fin di vita un connazionale 28enne colpendola alla testa con una pinza durante un litigio. Sono emersi infatti nuovi particolari su quanto accaduto la notte tra lunedì e martedì in via Vittoria Mussolente. Stando a quanto raccontato oggi da Savanè nell'interrogatorio davanti al giudice per indagini preliminari Stefano Furlani, la vittima, ricoverata ora in prognosi riservata al San Bortolo di Vicenza, sarebbe lo scafista con cui il 21enne è raggiunto in Italia dalla Libia. A far scoppiare la lite l'ennesima richiesta di soldi avanzata dal 28enne per il viaggio. Di fronte alla decisione di Savanè di denunciare l'uomo per i continui sopprusi, lo scafista avrebbe prima intimato al ragazzo di consegnargli il cellulare e i documenti e poi avrebbe impognato un coltello. Il 21enne dunque si sarebbe solamente difeso. Ora, per chiarire con esattezza cosa sia veramente accaduto quella notte Mussolente, risulteranno decisive le dichiarazioni fornite dagli altri tre immigrati, ospiti anch'essi della struttura misquilese della cooperativa La Goccia, che avrebbero assistito all'intera scena.